buon ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli street gorilla oggi come potete vedere siamo qua con un leone ragazzi veramente grandissimo ci siamo già visti questa cosa finta ma ci sta perché oggi il nostro marco tomasin dovrà sfidare la nostra palestra la nostra pana e vediamo quanto è veramente un leone di gorilla sarà in grado di essere degno di questo nome esatto allora il circuito che dovrà fare il nostro marco è questo quello che vedete qua sopra impressione però lo posto che ho inserito più elementi sia di forza se di agilità se di fiato insomma siamo veramente spizzarriti con lui perché è un vero atleta quindi siamo divertiti direi che possiamo partire subito dal circuito ma ragazzi dimenticavo che per fare questo circuito mi raccomando potete usare il pre workout di my protein che trovate in descrizione come tutta la nostra integrazione usate il codice sconto gorilla è un tiro nel sconto mi raccomando bene go via e iniziamo il primo ostacolo penso sia il piuttosto adesso vediamo come me l'accavo e niente siamo pronti e carico 3 2 1 let's go via busca via via ok niente siamo pronti e carico bravo 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 bravissimo bravo change iscrive il codice gran intenso è più difficile finito basta usati con le gambe bravo etc senzaappare Ok, ora puoi andare a fare un po' facile, vai vai vai, è infinitibile ragazzi, guardate com'è, che atleta ragazzi, che atleta, non mora, non mora, un vero leone, vai vai, ok, ancora, a tutto? No, ok, giusto, no, no, è giusto, doveva arrivare al palo, quindi è giusto, perfetto, perfetto, adesso abbiamo i box jump, box jump su tre livelli, 5 ripetizioni, 2, 3, stendi le gambe, 4, 5, adesso, da lì, stendi sopra, ok, 1, 2, stendi le gambe, 3, vai più in mezzo, 4, 5, ragazzi, mezzo livello ragazzi, è incredibile, va bravo, 1, bravo, 2, 3, forza, 4, let's go, l'ultimo, e 5, adesso andiamo a fare i dip, dip alle parallele, 20 ripetizioni, cosa, piatta, esatto, rifiata tranquillo, il circuito è tosto, l'intensità è alta, va ragazzi, arriviamo sul cardio, bravo, Spira, bravo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bravo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bravo, 8, 9, 20, let's go, ragazzi, ottime, ottimi dip, non dire, a South Mike, 20kcal, non immagini le 20kcal più pesanti del circuito sono queste, Vai, vai, vai. Vai, vai. Gesta, gestisci, gestisci Porg Positive Oh, Anda, vai. Uno. Vai, vai, vai. Vai dai dai. Forza, però espira, espira, respira La la molla è felice di andare. Vai così e fai tutti. Vai, bravo. Dai 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 dai, forza! 10 Vai ancora 10 calorie, rifiata, rifiata, let's go, ci siamo quasi ragazzi, che atleta, che atleta, 15 calorie, ancora 5 calorie ragazzi, è incredibile, è un bestia, 7, 9, e 20 calorie, adesso è pronto per il prossimo esercizio, la tirata della gom, adesso si tira, riposa che sono sbocchi tutto, sta per sbloccare per vomitare, non deve bollare, sa per metterci l'arima, in questo momento sta dicendo, chi cazzo me l'ha fatta fare, bravo però, la sfida non è facile, ma lui non molla, la forza nelle braccia, usa la tua potenza, la gomma, guarda quanto è grossa questa gomma, ha preso più di 100 kg questa gomma, ragazzi qua è tutto real, non si scherza, po completo, martello, martellate, martellate, 10, ragazzi, 5 da una parte, 5 da una parte, 5 da una parte, no fake workout qua, tutto real, forza, 1, bam, 1, vai, 2, easy, forza, 3, bravo, vai, 4, 5, let's go, 6, let's go, 7, 8, vai, 9, incredibile, 10, bam, 10, push up sulle palle, sulle palle, attenzione, sulle palle, forza, forza, let's go, ti stai tu, le reggae, bravo, vai, bravo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, 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 let's go, let's go, 8, 9, vai, vai, 10, ok, ora abbiamo 20 kcal al vogatore, siamo al penultimo esercizio, penultimo esercizio, ci siamo, vai, 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 tira, tira che fa da solo, vai, ci siamo, respira bene, bravo, questa è una velocità giusta, vai, vai, questo esercizio qua sarà per rifiatare, vai, 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 ok, let's go, guardate la schiena ragazzi, come si contrae in questo esercizio, fantastico, ma lui non molla, i leoni non mollano ragazzi, forza, per 3 secondi, calorie, 6 calorie, dai, 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 let's go, leone, leone, forza, non mollare, sei una bestia, un dato di più che sa bella rietta, guarda che bella rietta, 10 calorie, con le 10 calorie, forza, vai, 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 bravo eh, complimenti, ci siamo quasi, non molla, è una macchina da guerra, è una guerra che sta qua, molla niente, molla niente, dai, 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 ancora 5 calorie, forza, dai, spacca la tua macchina, no spacca la iPad, vai, 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 dai, vai, 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 dai, 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 dai dai, 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 tu hai minuto, 2 calorie, casi, dai, 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 via, dai, dai, 2 calorie, 2 calorie, 2 calorie, let's go, è pronto per fare l'ultimo esercizio da rioz jalano. bevi pure abbiamo l'ultimo blocco 5 muscle up alla sbarra 5 deep alla sbarra e 5 pull up finali e il circuito è finito si spezza tranquillamente siamo a 7 minuti e mezzo cali li abbiamo questo è il simbolo di un atleta che si allena davvero ragazzi quando si scherza si lava le mani con la magnesite la usa anche addosso la manbraccia la magnesite la magnesite addosso sotto le ascelle, sulle pali ovunque 1 1 1 vediamo facile qua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ovviamente non sono vali da calisterico ma direi che siamo buoni quindi non scrivete nei commenti dopo questo circuito direi che erano meglio dai 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 il bravo è il top vai altre tre dai 1 bravo va bene il sudore che facevo nelle nasce portavo l'altra spalla tu fai 3 4 dai dai ultime due dai dai ci siamo dai easy 2 3 vai si può salire così con i denti dai dai i crossfit i crossfit apprezzano questi massacri vero vero anche se i crossfit non fesseranno questo un poco finito i cali sedici meravigliosi i crossfit è un grande atleta però c'è da apprezzare 2 ok 2 2 2 vai 3 4 5 5 5 5 pulato è finito vai 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 sei sotto i 10 minuti vai 5 pulato è chiuso 1 2 bravo ottimo 3 dai dai 2 2 2 manca poco ai 10 minuti vai 4 eee 5 9 minuti 19 ragazzi applauso rinfermibile questo qui è una bestia veramente una bestia complimenti un atleta così era tanto tempo che non lo vediamo in palestra e io una prova così veramente era un po' che non la faceva ma un bel circuito anzi vorrei provarlo anch'io grazie ragazzi bellissimo questa è una vera prova del gorillo lui fa sempre il problema da leoni è la prova del gorillo è la prova del gorillo vero vero mi raccomando ragazzi iscrivetevi al nostro canale al suo canale lasciamo tutto in descrizione cliccate sul tasto like noi ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao cerca lo sticker street gorilla scansionalo con il tuo smartphone scarica subito il tuo workout allenamenti ogni giorno per ogni livello trovi lo sticker presso il nostro centro o acquistando i prodotti sullo shop